Civicamente con il consigliere Maurizio Mirra in una nota stampa si oppone alla pompa di benzina Battipaglia e denuncia Battaglia. Il consigliere scrive, l'amministrazione comunale va avanti con la pompa del popolo. La maggioranza che sostiene l'amministrazione francese ha bocciato la mozione che impegnava l'amministrazione a revocare la delibera di giunta che approvava la convenzione per la cessione delle aree a Tiguel, famigerato distributore di carburante che dovrebbe sorgere accanto al liceo scientifico medi. Altro aspetto che Mirra mette in evidenza è che come opposizione avevamo chiesto un atto politico forte alla maggioranza che le consentisse di dimostrare da che parte fosse, ma anche questa volta, seppur spaccata per la mancanza di alcuni suoi componenti come i consiglieri del gruppo Avanti Battipaglia ed il consigliere Marino, di cui abbiamo apprezzato l'atto di indipendenza e coerenza, gli interessi di pochi hanno vinto sulla ragionevolezza. Una disamina precisa di Mirra dopo il consiglio comunale scorso e lucido come sempre continua lanciando un messaggio a chi amministra. Pensavamo che si fosse raggiunto il fondo quando l'amministrazione con i soldi dei cittadini aveva conferito un incarico ad un avvocato per resistere contro il ricorso al Tarra. Ma questa maggioranza, pavida ed asservita, ha cercato mille modi per giustificare una scelta infelice. Nell'ultimo consiglio comunale, finalmente, l'amministrazione e buona parte della maggioranza hanno gettato la maschera ed hanno dimostrato di non essere dalla parte degli studenti del Medi e dei Battipagliesi. Infine, Mirra annuncia che ovviamente civicamente non ha nessuna intenzione di fermarsi. Noi continueremo a lottare in ogni sede contro questa accelerata decisione.